Con il capitano Cristiano Vigolin al termine del derby, Cartigliano, Arzegnano Valchiampo, 0-3, il risultato finale. Cristiano, partiamo da qui. È una partita bella da giocare perché i derby sono sempre belli da giocare e poi se il risultato finale è questo è doppia soddisfazione. È stata una partita maschia, sapevamo che incontravamo comunque una squadra fisica e l'avevamo preparata in settimana, sapevamo che sarebbe stata una battaglia e ci siamo fatti trovare pronti. Andiamo a guardare al secondo tempo Cristiano con le reti giallo-celesti di Forte, Gnago e Sarli. Sì, è bello che abbiano segnato in tre diversi e l'avevamo creato comunque anche al primo tempo, però siamo stati solidi. Abbiamo fatto una partita compatti, aggressivi, abbiamo creato al primo tempo e poi abbiamo trovato i gol nel secondo tempo, quindi bene. Con te Cristiano dobbiamo dar valore anche alla difesa giallo-celeste, quindi andiamo proprio a raccontare quello che è stato il match dal punto di vista difensivo. Ti dico, abbiamo fatto una partita aggressiva, ma un po' tutti, quando parliamo difensivamente oppure a livello di attacco siamo sempre a livello di collettivo. Quindi se abbiamo difeso bene, abbiamo difeso bene perché tutta la squadra ha difeso bene e abbiamo attaccato perché tutta la squadra ha attaccato bene. Siamo un gruppo solido, quindi bene e bravi a tutti. Cosa vi dà la vittoria del derby? Vincere il derby è sempre una grande soddisfazione, ti dico la verità. Però ora dobbiamo pensare alla prossima, sarà un'altra battaglia, un'altra partita difficile e il nostro percorso comunque è continuo. Anche con te Cristiano chiudiamo guardando al prossimo impegno, 22esima giornata di campionato, in casa col Delta Portotolle. Sì, sarà una partita difficile, sarà una partita comunque che con il Portotolle è sempre stata una partita complicata. Quindi dobbiamo prepararla bene in settimana come abbiamo preparato le ultime partite. E niente, dobbiamo andare lì sapendo che comunque dobbiamo mettere prima di tutto agonismo e voglia di arrivare prima sui palloni, poi i gol arrivano e le vittorie arrivano. Allora ringraziamo il capitano Cristiano Bigoli dallo stadio Fair Play al termine della 21esima giornata di campionato. Grazie a te Chiara. Complimenti. Grazie, grazie.